Adesso andiamo a Catania, perché domenica il Catania sarà impegnato a Firenze contro l'ex allenatore Vincenzo Montella. Abbiamo sentito i giornalisti che seguono abitualmente il Catania, che cosa raccontano del Catania di ieri e di oggi, e di conseguenza dell'allenatore di ieri e di oggi. Effetto Maran, effetto Montella, a Catania si parla ancora molto del lavoro dell'aeroplanino. Anche se adesso Maran ha dato un'impronta accorciando la squadra, tenendo la difesa molto alta, facendo inserire i centrocampisti. Il gruppo è uguale, però i metodi credo che siano diversi. Sarebbe troppo facile dire che il Catania di Maran e il Catania di Montella sono la stessa cosa, anche se in realtà i giocatori che ha a disposizione Rolando Maran sono gli stessi che aveva Vincenzo Montella. Il Catania di Maran non è lontanissimo dal Catania di Montella, ma non avrebbe senso esserlo. Dopo una stagione positiva come quella dell'anno scorso, era giusto e doveroso proseguire sul solco tracciato dall'aeroplanino, anche perché quello è il gioco che si confà meglio alle caratteristiche dei giocatori migliori del Catania.